Un unplugged di quelli veri Allora abbiamo registrato questo brano in quarantena Io ho fatto due cose in quarantena Ho fatto Asparagi di Frodo e ho registrato un altro Al mio amico Silvio Centamore che mi dà un applauso Vai vicino, vai vicino Facciamo un diretto? No mamma Grazie 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 Grazie